allora si cammina cammina qui attraversiamo il borgo antico di torano a proposito l'altra strada sta qui mica lo sapevo io c'è stato la sua qui con la bici tutto bene a saperci però se è vero che la prima volta si trance da questa parte quindi vabbè guardate com'è bella